No, non è per te. Sì, che vuole morderli. Vai, vai, Alba, è il momento. Vai, buttati, che morbido. Vai, 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 vai. Che cazzo volete fare? Oh, ma ha preso. Mi ha preso con i denti. Sì, ti ha fatto male? Ti ha fatto male? No, male no. No, male no.